Musica Questa sera, Signore, in comunione con tutta la Chiesa, vogliamo meditare sulla Tua passione e morte, tenendo presente le luci e le ombre, le croci e le speranze dei giovani del mondo d'oggi. Grazie perché in questi mesi l'attenzione della Chiesa su voi giovani sta facendo crescere la nostra vocazione ad essere madre, ad essere casa, ad essere radice. Da qui si apre la sfida non solo di accompagnarvi, ma anche di lasciarci accompagnare da voi. Abbi compassione, Signore, di tutte le situazioni di persecuzione per motivi religiosi. Signore Gesù Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti